Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo della mia ultima lettura terminata. Si tratta di un libro che mi è stato mandato dalla casa editrice Anfora, che è una casa editrice di cui già vi ho parlato quando ho parlato in un altro video del romanzo Abigail di Magda Zabò. Adesso invece vi parlerò di Perelisa, sempre di Magda Zabò, edito appunto Anfora a un costo di 18 euro. Io non posso fare altro che ringraziare tantissimo ancora la casa editrice Anfora perché mi sta dando la possibilità non solo di approfondire sempre di più di questa autrice che sto adorando in ogni sua opera sempre di più, ma perché mi sta dando la possibilità di leggere dei libri che sono trattati con una cura davvero davvero eccezionale. Allora, questo romanzo è un romanzo che definirei a metà tra l'autobiografico e il romanzo storico in quanto l'autrice ci parla della sua vita ma lo fa collocandola all'interno di uno scenario, di uno sfondo storico descritto in una maniera davvero minuziosa e dettagliata. Siamo nel 1917, appena terminata la prima guerra mondiale, e si è conclusa con il trattato di pace del Trianon. Un trattato di pace che prevedeva dei presupposti per l'Ungheria che in realtà si sono rivelati tutto fuorché buoni. Secondo gli storici contemporanei probabilmente fu proprio causa, anzi, dello scoppio della successiva seconda guerra mondiale. In questo scenario, in questo sfondo storico, si colloca la storia che ci viene narrata dalla stessa autrice in prima persona, ed è la sua storia. La storia di una Magda bambina che vive all'interno della sua famiglia di origine, che è una famiglia borghese. Suo papà passa il tempo insieme a lei insegnandole in latino e trasmettendole la sua passione per gli studi classici, e la mamma, invece, che è un'ex pianista e un'abile narratrice, le racconta delle fiabbe tradizionali ed essendo Magda una bimba molto curiosa e molto inclina alla fantasia e anche lei alla narrazione, insieme alla figlia stravolgono certe volte le trame, appunto, delle favole, ma anche delle parti della Bibbia, per renderle, appunto, più gradevoli alla piccola Magda. Un giorno il padre di Magda rientra a casa e comunica di aver preso la decisione di adottare un'orfana del Trianon, una bimba che si chiama Cecilia e successivamente la soprannomineranno Cili. Cos'è accaduto? Questa bimba ha perso i genitori e, come lei, tanti altri bimbi, per questo vengono chiamati orfani del Trianon. Il papà di Magda, quando incontra Cecilia per la prima volta, ne resta folgorato dalla tenerezza e dalla delicatezza di questa bambina e così decide di adottarla. La porterà a casa e la presenterà a Magda come la sua nuova sorellina. Inizialmente Magda la prenderà davvero male, entrerà da subito in competizione nei confronti della sorella, anche perché si renderà conto dell'amore e del trasporto che avranno immediatamente i suoi genitori per lei, essendo una bimba più sfortunata, appunto, rispetto a Magda, ma ad essendo anche una bimba delicata, fragile, rispetto a Magda. Inoltre Cecilia presenta una vera e propria, diciamo, predisposizione all'arte musicale, è un abile cantante, cosa che incuriosirà molto la mamma di Magda, essendo lei una pianista. Questo contribuirà a far aumentare ancora di più quella sorta di gelosia che Magda, appunto, comincia a nutrire per la sorella. Tuttavia, questo rapporto conflittuale che c'è all'inizio durerà poco, durerà poco perché in realtà il fulcro, il nucleo proprio vero, il filo conduttore di tutto il romanzo, sarà invece proprio il forte legame che ci sarà tra queste due sorelle. Due sorelle che, pur non essendo sorelle naturali, si ameranno profondamente per tutto il romanzo. Tuttavia, il loro legame è destinato a spezzarsi, perché da subito l'autrice, con dei salti temporali che ci sono all'interno di questa narrazione, ci parlerà del futuro di Cecilia e ci dirà che Cecilia presto morirà. È destinata a morire giovane. Quindi è qui che scatta il, diciamo, significato che c'era chiuso nel titolo di questo romanzo, per Elisa. Perché questo titolo? Cecilia farà una vera e propria richiesta a Magda. Magda, che, come vi dicevo, è incline alla narrazione, alla fantasia, e che sempre le è piaciuto, si è divertita a reinterpretare le storie, Cecilia le chiederà di farlo una volta per lei, e di reinterpretare e riscrivere il testo di per Elisa di Beethoven, e di dedicarglielo, appunto. Queste due ragazzine, ritornando indietro, perché, come vi dicevo, la struttura temporale di questo romanzo è una struttura un po' complessa, con dei continui salti dal passato al presente al futuro, ritornando nel passato, Magda ci continua a raccontare della sua storia insieme alla sorella, e in particolar modo del periodo in cui si iscrissero all'Istituto di Educazione Femminile, raccontandoci che ebbero una vita diametralmente opposta. Mentre Cecilia ebbe una vita scolastica abbastanza semplice, si è adatto facilmente agli studi e anche alla rigidità dell'Istituto, per Magda non fu lo stesso. Essendo lei una bambina curiosa, una bambina intraprendente, che non si faceva sfuggire nulla, ebbe dei rapporti abbastanza conflittuali con gli insegnanti, quindi la sua vita scolastica non fu molto semplice. In particolar modo mi ha colpito molto un capitolo dedicato a una fase precisa della vita di Magda Zabò, quando decise di abbandonare il gruppo scout del quale lei faceva parte insieme alla sorella, dicendo appunto che non aveva capito quali fossero i veri motivi di questo movimento, di questa associazione alla quale lei doveva fare parte, e chiedendo maggiori spiegazioni del perché lei dovesse perdere del tempo per lei importante che lei levava alla narrazione, alla lettura, allo sviluppo di interessi che per lei erano appunto più importanti, venne addirittura espulsa dal gruppo degli scout. In quel capitolo in particolar modo io mi sono sentita molto vicina all'autrice e ho capito tanto più di lei, ho capito la sua personalità, l'ho toccata proprio con mano, ho capito quale sarebbe stato il suo futuro da donna, e dunque è un capitolo che ho apprezzato in particolar modo. Quindi, arrivato a un certo punto della narrazione, subentra un altro personaggio chiave, che è un altro orfano del Trianon, un ragazzo, un giovane, che si chiama Adam, il quale una volta che si incontrerà con Cili, con Cecilia, scoppierà un amore folle, un amore che però, capiremo, è destinato a non sbocciare. Questo perché Adam, a differenza di Cili, non ha avuto la sua stessa fortuna, lui non è stato adottato, non gli è stato garantito un futuro, un supporto dal punto di vista economico da una famiglia, pertanto, prima di incontrare Cili, è sceso a patti con un ricco macellaio ungherese, il quale, vedendo che la figlia non aveva granché di sbocchi futuri, gli propose di finanziare i suoi studi, fino a farlo diventare un medico, a patto che, al termine della sua laurea, presa la laurea, lui avesse sposato la figlia. Adam accetta e firma questo proprio contratto di fronte a un notaio, quindi lui sa qual è il suo destino e sa quindi che l'amore che lui prova nei confronti di Cili è un amore destinato a cessare, a non esistere. Anche questo aspetto si percepisce in tutto il romanzo, in tutto il racconto, e fa appunto da filo conduttore parallelamente al rapporto, diciamo, d'affetto che c'è tra queste due sorelle, fino ad arrivare all'epilogo, un epilogo che non è una reale fine del romanzo, in quanto questo libro è in realtà il primo di quello che l'Asebo aveva immaginato come una trilogia, dovevano essere tre libri che appunto ci avrebbero parlato di tutta la sua vita. Tuttavia, essendo questa una delle sue ultime opere, se non proprio l'ultima, l'Asebo non arrivò a concluderlo, perché nel 2007 morì. Quindi l'epilogo, come vi dicevo, non c'è, è un finale aperto. Noi accompagneremo la fine di questo libro e vedremo che ci sarà una Cili che si accinge a trovare un altro uomo e si avvia al matrimonio con un direttore d'orchestra italiano e invece una Magda che salirà su un treno e lascerà l'Ungheria e si dirigerà verso Vienna. Il romanzo si conclude così, quindi, come vi dicevo, con un finale assolutamente aperto. Il libro ha una struttura narrativa che ho trovato un po' complessa. Come vi dicevo, la struttura temporale fa dei continui salti, non è lineare. Tuttavia, pur essendo il lessico aulico, un lessico non semplice come era quello di Abigail ed essendo un romanzo corposo di 500 pagine, però vi posso garantire che l'ho trovato assolutamente fluido e facile da leggere. Io l'ho letto in circa 3-4 giorni. Questo sicuramente grazie all'opera magnifica di traduzione che c'è dietro, ma anche mi hanno aiutato tantissimo le note a margine che ci sono quando ci sono dei riferimenti storici e delle citazioni che non sono, diciamo, di facile intuizione da parte del lettore. Quindi, l'opera dell'edizione Anfora è stata davvero minuziosa e dettagliata, la trovo davvero magnifica. Io l'ho definito questo un romanzo chiave di questa autrice perché all'interno di Perelisa troviamo tantissimi spunti che ci fornisce l'autrice stessa proprio di interpretazione, per capire il perché delle scelte stilistiche, ma anche tematiche e anche e soprattutto dei personaggi che la Zabot inserisce nei suoi romanzi. qui dentro sono tutte spiegate, ci fornisce le chiavi di lettura dei suoi romanzi. Io ho letto solo Abigail oltre Perelisa, ma mi sento pronta a leggere altro della Zabot ancora di più adesso che ho letto Perelisa. Quindi, per questo, mi sento di consigliarvelo caldamente perché se amate questa autrice o volete approcciarvi a lei e ai suoi romanzi, vi garantisco che questo è fondamentale. Dovete prima leggere Perelisa perché vi darà un quadro più ampio e più dettagliato non solo dell'autrice come scrittrice ma soprattutto come donna, come persona, ma anche dei suoi personaggi, delle sue tematiche che tratta perché nelle opere della Zabot c'è tanto di autobiografico. Insomma, se non si fosse capito, mi è piaciuto tantissimo. Ringrazio ancora tanto l'edizione Anfora che mi ha fornito questa possibilità di poter conoscere la Zabot e di poter avere queste letture magnifiche di poter fare queste esperienze davvero straordinarie. Io spero di poter continuare questa collaborazione con loro e di leggere tanto altro. Con questo io vi saluto, vi rimando al prossimo video e vi mando un grosso bacione. A presto, ciao!